Intossicati dall'esalazione della stufa a gas a Sarcedo, due uomini extracomunitari sono finiti in ospedale intossicati. Un guasto della stufa usata per riscaldare l'ambiente potrebbe essere alla base dell'intossicazione da monossido dei due immigrati residenti in via del rovere. A dare l'allarme e chiamare i soccorsi probabilmente è stato uno dei due. Sul posto è arrivata l'ambulanza del suo M118 e i due sono stati trasportati all'ospedale e dopo i primi accertamenti sono stati avviati per un trattamento di ossigeno-terapia in regime di emergenza in camera iperbarica.